Da parte nostra tutta l'attenzione, non solo di sensibilizzazione, ma anche riguardo a dei provvedimenti concreti. Noi oggi possiamo dire che da oggi in Commissione c'è il provvedimento sull'autismo, che è stato già approvato al Senato e quindi noi contiamo di potervi consegnare questo lavoro quanto prima per riuscire a dare un contributo al miglioramento delle vostre vite.